Buon pomeriggio, ben ritrovati dall'ippodromo del Mediterraneo. 2 giugno, festa della Repubblica, corse al galoppo di prestigio ma anche eventi collaterali inseriti in questo bellissimo pomeriggio che vedrà sfidarsi puro sangue al galoppo ma anche quarte orse e le simpatiche asinelle. Insomma ci apprestiamo a vivere un pomeriggio che vedrà appunto oltre alle corse interessanti che vedranno ovviamente il clou nel premio Teatro Greco, l'handicap principale C riservato ai cavalli di tre anni, anche due semifinali e poi le finalissime dei quarte orse che sfrecceranno sul quarto di miglio, proposti e presentati dall'ASD di Maria Purità e poi invece le simpatiche asinelle che saranno montate dai referenti e dai rappresentanti di quartieri di Floridi e di Canicattini, le asinelle saranno come ogni anno presentate dalla fattoria Cugno Lupo di Vincenzo Cavalieri. Andiamo subito nel dettaglio tecnico perché sta per partire la prima corsa di galoppo, dicevo un convegno sicuramente interessante perché oltre all'handicap principale, al premio Teatro Greco ci sono delle bellissime prove di contorno. A partire proprio dalla prima, il premio Wayne to Resist, una Maiden dotazione 11.000 euro, due anni in cerca del primo successo in carriera che andranno a confrontarsi sui 1200 metri della pista piccola e sono in nove al via. Adesso tocca a Regina Viarum, la saura di casa guerrieri. E' tutto pronto, tutti dentro, led chiamati a uscire e si parte. Bella partenza di Sogno Maltese, a largo si presenta subito Don Antonio che appia la leadership, subito inseguito da Regina Viarum che si pone a sue fiamme. Sogno Maltese in terza, a precedere gli altri con il gruppetto chiuso dal deputante Olistar. Si fa ingresso in curva con Don Antonio Lider, Sogno Maltese sulle sue tracce. Scurva leggermente più a largo Regina Viarum, dietro ancora questi quattro troviamo Lady Nerea e Andisputed Queen. Si affronta l'ultimo tratto della curva e si è pronti a entrare in dirittura arrivo con Regina Viarum che mette sotto pressione Don Antonio. Sogno Maltese segue da vicino, quindi ancora Peppes Black, ancora più a largo, ci prova Andisputed Dream. Sogno Maltese filtra all'interno di Don Antonio che negli ultimi 200 metri sembra perdere di incisività. Lo scatto di Regina Viarum, ancora più a largo, quello di Mademoiselle Rebbi. Sogno Maltese ha preso in largo negli ultimi metri lo scatto di Mademoiselle, ma Sogno Maltese si riscatta dal debutto anonimo e si impone a Mademoiselle Rebbi, Regina Viarum e Cantanfly. Antonio, un debutto di Sogno Maltese che tu non ti aspettavi perché le potenzialità espresse la mattina erano altre. Oggi, insomma, confermate di averne ancora tanto dopo l'arrivo. Sì, sicuramente l'altra volta mi aspettavo qualcosa in più perché ha fatto vedere che la mattina di saper andare bene. L'altra volta ha pagato tantissimo il debutto. Oggi è andato così così, secondo me viene avanti. Attesa ancora da attendere. Sì, sì, un cavallo che secondo me corso dopo corso migliorerà. Complimenti. Grazie. Grazie alle immagini che ci ripropone la nostra regia. Vediamo le sinelle pronte. Intente ad essere gestite dagli artieri che concura ecco, vediamo anche il signor Vincenzo Cavalieri che rassicura le sue bellissime sinelle. Andiamo a presentare. Francesco, non so se tu sei già in postazione perché vorrei presentare insieme a te la prima batteria. In questa prima batteria ogni asinella, perché sono tutte femmine, è stata associata a un quartiere di canicattini e allora abbiamo, che hanno ovviamente dei colori di riferimento, allora abbiamo il viola per la balatazza con Damiano Mancarella, l'asinella si chiama Costanza. Francesco, tu che sei dall'alto ovviamente hai una visuale maggiore rispetto a me, dimmi quello che succede quando devo darti la linea, perché intanto vedo che è partita un'asina da sola, ecco, non ci ha ripensato e quindi sta tornando indietro. Vediamo se facciamo in tempo, grazie alle immagini della nostra regia, perché sono molto belle queste immagini di queste asinelle che si confronteranno proprio nella prima batteria. Allora dicevo, sono Costanza con Damiano Mancarella in sella per il viola della balatazza, Miriana con Lorenzo Linguanti per il giallo del Santuzzo, Dalmazia per Salvo Petrolito, blu vaddune, Michael Rascioppo che invece sarà in sella, non in sella, ma in groppa a Valentina, abbinata al colore verde di San Giovanni, Giampaolo Dinè con Salvina per il bianco della matrice, Giuseppe Ciarcià con Concita per il nero di Pizzumurro, Pablito Ficara che invece gestirà Amara con il colore rosso del Priolo e chiudere la prima batteria Michele Petrolito che monterà Nella, il colore quello celeste di Vignari Serrantino. Eccole qui le immagini che ripropongono proprio le nostre otto asinelle al seguito di questa corsa, questa in realtà è la prima semifinale, al seguito di questa corsa le prime quattro asinelle poi verranno a disputare la finalissima con le quattro arrivate dell'altra batteria che invece vedrà in campo i quartieri di Floridia e quindi i cavalieri di Flottidia. Io se Francesco è d'accordo darei la linea proprio a lui perché ci siamo, siamo quasi alla partenza e quindi a Francesco Sirti all'onore e all'onere di fare la cronaca divertente di questa prima batteria. Io sono pronto Sabina, aspetto solo il via da parte dello starter. E si parte, e vabbè come l'altra, come sempre, ognuno va per la propria strada però ce ne sono due che si stanno industriando bene, soprattutto questa asinella che va all'interno di tutti e concita con la maglia nera per Pizzo Muru, Giuseppe Ciarcià prova la fuga inseguita da Miriano Lorenzo Linguandi che comunque è costretto a scendere dalla groppa della sua Miriana ma concita e Giuseppe Ciarcià provano la fuga al suo inseguimento dal Mazia con Salvo Petrolito, blu, ma si avvicina, si avvicina tanto, è una lotta a due, bellissima tra le due sinelle, poi lo scatto con il giallo anche fuori groppa del Miriana per Santuzzo Lorenzo Linguanti e qui mi affido a voi perché pur senza il cavaliere Miriana e Lorenzo Linguanti per Santuzzo hanno tagliato il traguardo per primo davanti a concita Giuseppe Ciarcià per Pizzo Muru, terzo dal Mazia con Salvo Petrolito e quarto dovrebbe essere Mara Pavito Ciarcià con la maglia rossa per Priolu mi affido anche a voi, per me l'arrivo è questo attendiamo conferme, giudice d'arrivo ovviamente ci darà il suo verdetto intanto io prenderei il cavaliere Lorenzo Linguanti Lorenzo Linguanti che si avvicina gentilmente con la sua Miriana la prima volta che monti un'asina, che esperienza è stata? bellissima, bellissima, indescrivibile come l'hai vista? Pronta, scattante, gestibile, un po' insomma per i fatti suoi come dice Francesco? non nemmeno a controllarla, ma ti ho fatto un po' di caduta però tutto bene alla fine sei arrivato insomma giù, non proprio su una sinella però va bene così credo che il giudice d'arrivo in realtà poi confermerà il tuo successo e quindi ti ringraziamo, ti vedremo sicuramente per la finale questa prima batteria ha visto sfida i quartieri di Canicattini adesso vedremo in campo invece quelli di Floridia la sfida sarà bella tosta e avvincente quindi riposati un attimino e preparati per la prossima semifinale grazie allora Sabina ti confermo con grazie al giudice d'arrivo l'ordine che te ho anche detto poc'anzi allora prima Miriana, Lorenzo Linguanti per Santuzzo seconda Concita, Giuseppe Ciarcià per Pizzumuru terza Dalmazia, Salvo Petrolito per Vaddune quarta Mara, Pablito Ficara per Priolu e allora qui accanto a me Pablito Ficara no scusatemi, Giuseppe Ciarcià per Pizzumuru con Concita e che finisce secondo ecco la ola da parte dei tuoi sostenitori che sono in tribuna mentre il terzo posto a Salvo Petrolito con Dalmazia quindi sicuramente a voi, anche a voi vi rivedremo in campo per la finalistima che esperienza è stata? una bella esperienza come sembra non è la prima volta quindi che tu monti un asinello? qua no, però è abbastanza divertente è andata meglio quest'anno rispetto agli anni scorsi? diciamo di sì bene, allora pronto anche tu per la finale intanto si è allontanata anche Dalmazia io sono col signor Giuseppe Cavalieri sempre una grande risorsa per l'ippodromo del Mediterraneo ma non solo un appuntamento che per noi con voi si rinnova con tanto piacere bentornato buongiorno a tutti effettivamente è vero come dite voi la collaborazione tra noi e l'ippodromo del Mediterraneo ormai sono dieci anni con quest'anno anche con il comitato dei quartieri di Canigattini un grazie di vero cuore infatti ci sono tutti i ragazzi dei vari quartieri del nostro palio di San Michele che si fa l'ultimo giorno di agosto la prima domenica di settembre vi invito tutti a venire a vedere anche lì la corsa con gli asini quest'anno la gara si fa più bella più tosta perché abbiamo associato ai quartieri di Floridia le asinelle che concorreranno per la seconda batteria è molto bello anche questo sì effettivamente è bello perché le nostre tradizioni le nostre manifestazioni si uniscono a quelli di Floridia tutte e due insieme contribuiamo tantissimo a promuovere il nostro territorio il territorio di Canigattini di Floridia ma dell'intera provincia di Siracusa in generale adesso proseguiamo col premio Camigliatello handicap discendente dotazione 6.600 euro corsa abbinata al gioco ippica nazionale 1.500 metri della pista piccola riservati a cavalli di tre anni ed oltre poi si parte non scabbia benissimo Fiore di Campo va subito davanti May to Win con all'interno Mythical Mill che prende il comando delle operazioni in terza posizione invece troviamo il numero uno di Le Boba Cal poi tutti gli altri in una lunga fila indiana chiusa da Giulio Cesare prosegue la marcia in avanti di Mythical Mill May to Win e Le Boba Cal a seguire da vicino poi il gruppo che si va compattando con nelle prime posizioni anche Regal Love e Giulio Cesare che è rimontato dalle posizioni di fondo May to Win mette un po' la figura sul posteriore di Mythical Mill adesso si avvicina con maggior intensità mentre Le Boba Cal ha tutto lo spazio per venire a largo e fiondarsi a centropista all'interno in rimonta anche Fiore di Campo siamo ai 300 finali l'attacco di Le Boba Cal sembra essere quello più incisivo si libera bene Fiore di Campo sul Mythical Mill che prova a reggere l'ulto degli attaccanti nel frattempo è passato Le Boba Cal in seguito da Fiore di Campo a largo di tutti lo scatto di B-Strong ma è troppo tardi perché Le Boba Cal l'ha messo tutti d'accordo finisce terzo Fiore di Campo davanti a Worlds of Love Le Boba Cal abbassava notevolmente il tiro e si è imposto in maniera molto molto convincente il portacolori il signor Alfio Gangi il training è quello di Vincenzo Carusa Andrea Fene in sello al figlio di Mucadram al secondo posto si è svincolato bene a largo di tutti B-Strong che è finito davvero forte anche se è tardiva netta a precedere il 10 di Fiore di Campo non sente il peso dei 64 kg e mezzo Le Boba Cal che insomma fa prevalere sicuramente la qualità sicuramente avevo una grossa chance oggi i chili non erano pochi erano impegnativi però la corsa mi è venuta bene perché fino a 300 dal palo mi sono fatto portare forse è stato il vantaggio di fargli sentire meno i chili e alla fine è valsa la qualità complimenti anche a te grazie mille la SD Spettacoli Equestri rinnova la collaborazione con l'ippodromo del Mediterraneo per un'altra edizione del Trofeo Quarter Horse un'associazione che ha come oggetto principale la sensibilizzazione e la promozione di progetti che sono poi indirizzati all'organizzazione di attività sportive equestri e manifestazioni in campo già come vi dicevo i sette protagonisti della prima batteria è un piacere per noi citarli uno ad uno gladiator Francesco sei tu in postazione quindi se li vedi inquadrati sì Sabina ma prima che partissero volevo dirti che ci sono due cavalieri con la stessa maglia io non so come distinguerli con quali cavalli e con quali no ok adesso riferisco riferisco e sprende il via questa prima batteria dei Quarter Horse lungo lo steccato William Emolo con EW Master Cash che sembra essere in vantaggio sull'attacco esterno di uno dei due blu potrebbe essere Fabio Emolo con M Love Dash ma nel frattempo William Emolo con EW Master Cash si difende e vince sul probabilmente MB Lover Cash terzo Naisha con Raffaele Cubisino andremo alla quarta del quarto arrivato che è un altro con la maglia blu e quindi lascio a voi capire come l'arrivo perché io sinceramente posso dire che vince sicuramente EW Master Cash con William Emolo poi per il secondo vediamo se Raffaele Cubisino oppure uno dei due con la maglia blu ed è ed è quello all'esterno con la maglia blu che potrebbe essere Fabio Emolo MB Love Dash bisogna vedere qual è il pezzato come si chiama il cavallo pezzato terzo abbiamo detto Raffaele Cubisino con la maglia gialla mentre quarto è Giubba Verde Alessio Damata con Colonel quindi bisogna capire chi è il secondo arrivato Sabina Cesco il pezzato è Tutias quindi il numero 7 quindi quello che doveva avere la maglia nera esatto perfetto e allora primo il numero 2 EW Master Cash William Emolo secondo Totiglias Emanuele Emolo terzo Raffaele Cubisino con Naisha quarto Colonel e Alessia D'Amato che avviene in questo momento è scatta forte Leonardo Emolo con Cash all'interno Francesco Date triple bar Rebecca al centro della pista con Davide Emolo ancora più a largo Carmelo Emolo con Baron è una lotta tre tra Cash Baron e Rebecca con Baron che attacca e passa negli ultimi metri davanti a Cash terzo dovrebbe essere Rebecca con Davide Emolo quarto Adelaide Orsini con Red Bull rivediamo lo slow motion Carmelo Emolo e Baron pigliano la meglio proprio negli ultimi 20 metri di gara e battono Leonardo Emolo con Cash al terzo termina Rebecca con Davide Emolo e al quarto posto finisce Adelaide Orsini con Red Bull quindi questo è l'arrivo primo Baron Carmelo Emolo secondo Leonardo Emolo e Cash terza Rebecca e Davide Emolo quarta Adelaide Orsini con Red Bull e tutto viene confermato anche dal giudice d'arrivo andiamo con il premio Monarca la condizionata con 11.000 euro di dotazione tre anni ed oltre al via 1.400 metri della pista piccola in nove agli ordini dello starter dentro anche il numero 6 di Ogalantum ed è tutto pronto Ogalantum prova a prendere una gran partenza però al centro dello schieramento è Sunlight prende iniziativa all'interno Blue Flame quindi Aragona Sweetie che ripiega davanti a Pausan Ogalantum gruppetto chiuso da Edge e Og in coppia con Boafo Boy Blue Flame ritmo davvero importante quello imposto alla gara con Sunlight che lo segue da vicino in terza posizione sempre Aragona Sweetie poi avanza Pausan con il gruppo che si è sfirasciato sotto il ritmo incandescente imposto dal grigio Dark Angel con Gabriele Cannarella che è ancora un paio di lunghezze avanti a tutti soprattutto Sunlight Pausan Aragona Sweetie in calo adesso muovono bene dalla retroguardia You Make Me Shiver con all'interno Ogalantum Blue Flame adesso è preda di Pausan che scatta sul largo e passa Ogalantum si svincola dalla sua scia a centro della pista You Make Me Shiver poi gli altri un po' dietro Pausan prova la difesa da Ogalantum e da You Make Me Shiver Pausan e Walter Gambarota una coppia che qui a Siracusa ha sempre fatto bene lo dimostra anche oggi imponendosi a Ogalantum You Make Me Shiver ed Edge e Hog Pausan da favorito la porta a casa il portacolori del signor Giulio Vito per la doppietta di Vincenzo Caruso dopo il successo di Rebobacal Varte Gambarota sullo City Space di 5 anni che respinge l'affondo finale di un ottimo Ogalantum terzo ancora un buon You Make Me Shiver che precede per il quarto posto il numero 4 di Edge e Hog 2.59 è la quota di Pausan 7.69 è l'arrivo della terza da Siracusa complimenti a Walter Gambarota Daniele D'Amico e rappresentanza della terra Vincenzo Caruso un grande feeling con Pausan che tu confermi cavallo di grande generosità è un gran cavallo il gran cavallo di da sempre tutto purtroppo questa sua attitudine in pista grande lo penalizza un po' gli ultimi 200 metri in pista piccola poi farà da padrone oggi era in gran forma le corse ne ha sbagliate veramente poche quindi oggi ha fatto vedere solo chi è lui complimenti Walter come sempre grazie mille a voi è un'attività molto bella innanzitutto perché diamo spettacolo perché vedremo sicuramente delle cose molto belle e molto divertenti e poi i protagonisti sono i nostri quartieri che abbiamo voluto tanto che negli ultimi tre anni abbiamo voluto rivalutare ed è iniziata un'opera di revitalizzazione anche dei quartieri stessi grazie all'impegno che ognuno di loro sta mettendo quartieri sempre più numerosi che crescono sempre di più e queste sono delle attività insieme a tante altre che la nostra amministrazione promuove per valorizzarli sempre di più e quindi avremo Costanza Miriana Dalmazia Valentina Salvina Concita Mara Ennella e via questa seconda batteria delle asinelle e già una è andata per terra una gira al contrario il traguardo è da questa parte cari asinelle dovete venire da questa parte perché indietro non si può andare e allora ci prova con Concita Salvatore Rivela che lungo lo steccato prova a mandare avanti la sua asinella che comunque per il momento resta davanti poi dietro si impegna anche Mara con Antonio Barbieri le altre fanno fatica ma c'è poca voglia di impegnarsi da parte di questa asinella per esempio c'è Vito Guastella con Salvina che sta girando tutta la pista adesso le acciuffa ma c'è lo scatto di Miriana e Marco Di Giovanni che prendono un'altra marcia su tutti gli avversari ma guardate Miriana e Marco Di Giovanni che hanno scavalcato tutte le asinelle però che fa? decide di fermarsi no no riprenditi e si riprende allora al suo interno anche Salvatore Rivela con caccita ma Miriana che sembra avere quel poco di grinta in più l'arrivo non si vede sembra all'orizzonte ancora ed ecco le due asinelle che hanno fatto il vuoto alle sue spalle con Miriana fai l'ultimo sforzo cara Miriana Miriana e Marco Di Giovanni su e dietro lo scatto anche di Nella con Carmelo De Grandi e quarto Vito Quastella con Salvina ma davvero queste asinelle in questa seconda prova hanno fatto di tutto e di più quindi rivediamo l'ordine arrivo con Miriana e Marco Di Giovanni che tagliano il traguardo per prime poi concita e Salvatore Rivela per la stazione allora Miriana Marco Di Giovanni era per la Marchesa terzo è Costanza con Danilo Mangione per Vigna Longa e poi abbiamo Vito Quastella e Salvina per la Chiazza al quarto posto archiviata la condizionata proseguiamo col premio Maslow un handicap discendente abbinato al gioco Ippica Nazionale 6.600 euro al Monte Premi tre anni ed oltre al via 1.900 metri della pista sabbia distanza e tracciato da affrontare dopodiché si può dare il via al premio Maslow questo discendente 1.900 in sabbia led chiamato uscire così è e si parte dall'interno Better View Torquato ma Filmet è quello che pia l'iniziativa si muove subito invece Blue Record fa solidamente piace correre in avanti o in maniera prominente a chiudere il drappello troviamo invece il numero 6 il numero scusate il numero 10 Prisoner of Love si va sulla retta opposta all'arrivo con Better View leader seguito da vicino da Torquato quindi ancora Blue Rankot che nel frattempo ha preso l'iniziativa in terza posizione c'è sempre Filmet a largo si industria Mobbif quindi ancora Deron Kitt via via tutti gli altri a chiudere c'è sempre Prisoner of Love e American Pie siamo a tre quarti dell'addirittura opposta all'arrivo ottimo il ritmo messo in campo da Blue Record Carmelo Zappulla che adesso devono affrontare l'attacco di Torquato dietro sempre Filmet Better View ancora Deron Kitt che prova a prendere la scia di Better View di dentro va tutto bene montato quindi Prisoner of Love e American Pie a chiudere si entra addirittura arrivo si schiera un avventaglio all'interno Filmet a largo Blue Rankot Better View alla cerca di un Varco Torquato Deron Kitt che scatta ancora più a largo Prisoner of Love è un gran finale di Prisoner of Love a largo di tutti per via interna rimonta bene va tutto bene ma Prisoner of Love ha messo tutti d'accordo con lo scatto bruciante e che difende il vantaggio acquisito fin sul palo davanti a va tutto bene Deron Kitt e Yelsara successo di Prisoner of Love e ha fatto valere i 56,5 kg il portacolori del signor Giuseppe Gallo per il tren di Roberto Fontana ottimamente montato da Giuseppe Cannarella va tutto bene nonostante i 68,5 kg riesce a centrare il marcatore piazzandosi secondo davanti al 4 di Deron Kitt e al 5 di Yelsara 7,18 la quota di Prisoner of Love 10,1,4 è l'arrivo della quarta da Siracusa ritorno a successo per Prisoner of Love cavallo che sicuramente insomma era ben sistemato con questi chili molto scarico e ha ritrovato i motivi migliori guarda è un cavallo quando corre fresco a distanza di abbastanza giorni se non sbaglio 30 corre sempre bene oggi come dici tu era molto agevolato al peso e ha detto la sua complimenti Peppe grazie prende il via e come spesso capita ognuno va per la sua strada ognuno va per la sua strada con Salvo Petrolito che sembra prendere l'iniziativa ma abbiamo anche Rita e Salvatore Rivela si fa sotto anche Miriana con Lorenzo Linguanti che ha vinto la prima batteria mentre con con la giubba rossa Mara e Pablito Ficara dall'altra parte della pista provano a impegnarsi al meglio nel frattempo Vito Guastella e Nella lungo lo steccato provano a prendere un vantaggio sugli avversari per il momento Vito ci riesce perché è davanti anche perché Mara ha messo improvvisamente i freni non ne vuol più sapere di andare adesso è comandata dal suo cavaliere ma Vito Guastella e Nella per la chiazza sono in vantaggio adesso c'è lo scatto all'argo di tutti di penso Pablito di Danilo Mangione con Serena ma Vito Guastella ha ha conservato il minimo dei vantaggi e allora il successo va a Vito Guastella che rappresentava Floridia per il quartiere Chiazza esatto Francesco vittoria schiacciante per Vito Guastella rappresentante del quartiere Chiazza di Floridia vince Floridia questa prima edizione della corsa tra le asinelle ma ovviamente coinvolgendo i quartieri di Canicattini e di Floridia Vito avvicinati con Nella colore celeste come la Madonna colore celeste per Vito Guastella che si avvicina ancora a voglia di correre Nella e quindi Vito prima partecipazione alle corse con le asinelle e allora come l'hai vissuta? Non poteva andare meglio di così alla grande abbiamo vinto almeno qui anche se ci siamo fatti una bella ascensione qua abbiamo almeno abbiamo pensato le mani e oggi attenzione perché Nella insomma dicevo io ancora ha tanto da spendere e però vuole mangiare pure qualcosa un po' d'Erbetta insomma glielo concediamo perché se lo merita e allora ti chiedo cortesemente di affidare Nella al signor Cavalieri o a chi per lui e poi vieni velocemente che proseguiamo con la premiazione felice immagine il quartiere Chiazza mi auguro ci siano dei rappresentanti qui all'ippodromo ci congratuliamo ovviamente con loro assessore Serena Spade il dottore Mazzarella l'assessore Ettore Sgro il presidente della Prologo Davide Gozzo tutti qui insieme a me per proseguire insomma con la premiazione di questa di questa bellissima edizione assessore ha portato bene ha vinto Floridi ha vinto la Chiazza assolutamente sì infatti la cosa giusta è dire che ha vinto Floridi anche in questo caso ci siamo divertiti è stato bello stiamo valorizzando in tutte le attività possibili i nostri quartieri che stanno crescendo sempre di più questo è il senso di comunità è quello che volevamo creare stiamo lavorando per farli crescere sempre di più ma vediamo veramente che questo sta succedendo e quindi che dire viva Floridia la dimostrazione evidente è che i quartieri rappresentanti dei quartieri di Floridia sono tutti qui anche coloro che insomma non hanno potuto partecipare a questa finalissima vedo il quartiere Santuzzo che spicca nel colore giallo e che saluta e che ringraziamo ovviamente insieme agli altri intervenuti quest'oggi Vito Guastella e Vincenzo Cavalieri pian piano come le asinelle dottore 2 giugno un appuntamento questo che si ripete oggi abbiamo galoppo d'eccezione con i quartieri orse e le asinelle il 2 giugno ormai è una giornata fra le più importanti che si organizzano all'ippodromo sicuramente una giornata spettacolare dal punto di vista ippico ci sono 6 corse tutte bellissime con nessun favorito poi c'è un premio teatro greco sicuramente all'altezza ci sono state due esclusioni erano 16 partenti saranno solo 14 perché abbiamo una parte della pista in manutenzione quindi abbiamo ridotto il numero dei partenti una giornata splendida poi tradizionalmente la corsa degli asini e il trofeo dei quartiere orse sono due manifestazioni che ormai ci seguono da anni poc'anzi parlavamo con il signor Cavaliere che è il deus ex machina dell'organizzazione delle corse dei cavalli siamo arrivati alla decima edizione la prima volta è venuta nel 2014 anzi l'undicesima per la precisione 10 anni 11 edizione di corse degli asini che sicuramente dal punto di vista del spettacolo sono veramente divertenti esatto allora l'ippodromo del Mediterraneo è esattamente dalle mani del dottore Mazzarella vuole offrirle donarle un riconoscimento Davide Gozzo sì una targa di riconoscimento e un ringraziamento particolare per Vincenzo Cavalieri che insomma da dieci anni ormai collabora qui con l'ippodromo con le sue splendide asinelle che insomma qualcuna è diventata già esperta l'altra insomma un po' deve ancora lavorare però ci siamo sì stiamo lavorando ogni anno si migliora sempre di più ci sono le debuttanti quest'anno sono tutte debuttanti ad eccezione di Dalmazzi Valentina ma le altre erano tutte debuttanti hanno fatto un ottimo spettacolo penso nella sì ci tengo a precisare che queste le sto mettendo da parte tutti gli anni e saranno messe nel museo che aprirò nella mia azienda a breve tutti là esposti per far vedere la collaborazione che c'è con l'ippodromo del Mediterraneo da dieci anni a questa parte che è ottima e si rafforza sempre di più grazie grazie ancora il vincitore della Corsa che sciacchi 2024 è Vito Questella premia l'assessore di Floridia Serena Spada ricevo ovviamente per il quartiere Chiazza porterà i nostri complimenti e ovviamente questo merita il tuo premio merito tutto anche tu anche Sabi perché se non era per te che mi chiamavi di montare io non mondevo è vero è vero è vero grazie grazie Vito e tanti complimenti sì c'è anche il trofeo giustamente offerto dall'ippodromo del Mediterraneo il presidente della Proloco di Floridia Davide Gozzo esatto bene il dottore Mazzarella ti dà l'onore di premiare ancora Vito Guastella sì la targa va al quartiere vincitore e alla Chiazza questo è quello personale proprio per Vito Guastella grazie grazie ancora e adesso linea e occhi puntati al tonnino perché c'è il gran premio teatro greco e poi ad anticiparlo insomma una bellissima sorpresa oggi è festa della Repubblica ci apprestiamo a vivere la corsa più bella e più emozionante del pomeriggio e abbiamo il piacere e l'onore di avere il soprano Maria Chiara Primo che adesso ci delizierà insomma con la sua voce intonando l'inno d'Italia l'inno di Mameli fratelli d'Italia l'Italia si dista dell'elmo di Scipio si cinta alla testa dove la vittoria le porga le porga la chiuma che schiava di Roma il Dio lo creò la chiuma che schiava di Roma di Roma e di Roma e di Anacrio stringiamoci a corte siamo pronti alla morte siamo pronti alla morte l'Italia chiamò stringiamoci a corte siamo pronti alla morte siamo pronti alla morte Grazie Maria Chiara per questo momento particolarmente toccante, la festa della Repubblica e l'inno d'Italia secondo noi era doveroso, un ringraziamento da parte del dottore Mazzarella e da tutto l'ippodromo del Mediterraneo per questa esibizione veramente esemplare. Grazie a tutti, vi volevo ringraziare per avermi dato questa opportunità, è stato veramente un piacere. Sicuramente, mi sento di dire che replicheremo in qualche altra occasione. Perfetto, alla prossima. Adesso concentriamoci sulla prova principale di quest'oggi sul Gran Premio Teatro Greco Endricap Principale C che impegna i migliori cavalli di tre anni qui all'ippodromo del Mediterraneo. 20.900 euro il Ghiotto Montepremi per una corsa che vede 14 soggetti pronti a misurarsi sui 1600 metri della pista grande. Sono tutti dentro, LED chiamati a uscire. Premio Teatro Greco, Handicap Principale C, 1600 metri della pista grande, prende il suo via. Non scabbiano bene i due di Zappulla che restano in coda, parte invece molto bene Isan con l'appoggio dello steccato e viene scavalcato da Irremichi che si porta nel frattempo davanti. Ma emerge subito al suo esterno con la giubba a scacchi il numero 13 di Treasure of Altai. All'interno in seconda posizione Si Emperor con ai fianchi Zio Ciccionais. Poi Benfà al centro della pista e comunque i cavalli sono tutti racchiusi davvero in un fazzoletto e imboccano la curva finale. con Irremichi leader su Treasure of Altai e Si Emperor, Zio Ciccionais a largo per Varchi Ira Sovrana, ancora Benfà, tutti ben raggruppati. Si va a completare la curva, i cavalli sono pronti a fare il loro ingresso, addirittura l'arrivo con Irremichi, sempre Battistrada. Adesso dalla sua scia prova a venire fuori il numero 13 di Treasure of Altai per Varchiva Si Emperor che sembra aver trovato il binario giusto, almeno per il momento. Poi a centro pista si schierano al ventaglio, cerca di trovare il Varcho Isan, chiuso per il momento da Zio Ciccionais. A largo di tutti anche Siu Pesciano che si ingamba bene, Si Emperor è sempre davanti, attaccato da Treasure of Altai. Si Emperor prende un minimo di vantaggio, dalla sua scia viene fuori invece Ira Sovrana, è un testa a testa tra i due con Ira Sovrana che in fondo prende la meglio su Si Emperor. Finiscono poi i vicinissimi Siu Pesciano e Zio Ciccionais per il terzo, occorre rivedere lo slow motion, ma Ira Sovrana ha tirato fuori una prestazione, una di quelle che aveva fatto a inizio carriera e brucia tutti, soprattutto il favorito Si Emperor, lo castiga proprio a 20 metri dal traguardo negli ultimi tempi di galoppo, prende la meglio. Ira Sovrana per Paolo Serrantino, Sebastiano Cannavò, Giuseppe Cannarella che raddoppia in giornata, Si Emperor secondo. Per il terzo è probabilmente Siu Pesciano, riesce a mettere qualcosa davanti a Zio Ciccionais che finisce al quarto posto. Quota a Ghiotta quella di Ira Sovrana, 22,40 in chiusura. Al secondo posto il 2 di Si Emperor, il terzo il 5 di Siu Pesciano, 11,25 e l'arrivo della quinta da Siracusa. Abbiamo il piacere di premiare i vincitori di questa edizione 2024 del Gran Premio Teatro Greco. Handicap principale, ci ricordiamolo, chi ha visto in pista i migliori cavalli di tre anni sfidarsi sul miglio della pista grande. Dalla parte bassa della scala dei pesi emerge Ira Sovrana magistralmente interpretata da Giuseppe Cannarella per i colori di Paolo Serrantino e il training di Sebastiano Cannavò. Trofrei già pronti per essere consegnati al team vincitore, il dottor Concetto Mazzarella premia il Fantino, l'interprete Giuseppe Cannarella. Francesco Faraci invece affida il riconoscimento nelle mani dell'allenatore Sebastiano Cannavò. Gaetano Mazzarella, a te invece il compito di premiare il proprietario Paolo Serrantino, ritira il piccolo Gaetano per Ira Sovrana. Francesco avvicinati a me per favore. Alla secondo successo in carriera Iva Sovrana, tutti e due conquistati qui a Siracusa, ma questo immagino abbia un altro sapore. Parlo con Giuseppe. Parliamo con Giuseppe. Allora poi, Giuseppe dicevo, è il secondo successo per Iva Sovrana, questo immagino abbia un altro sapore. Sì, giornate particolari, poi qui queste giornate è sempre più bello, vince, corse di un calibro diverso dalle altre. È venuta una corsa tutto a favore nostro, fortunatamente. Abbiamo vinto una bella corsa. Vai all'attacco del favorito, di Simperor, cavallo, insomma, che ha delle linee importanti. Alla fine riesci a beffarlo proprio sul traguardo. Pensavi di poterlo battere o quando ci hai pensato? Se ti devo dire la verità, durante il percorso ho visto che la cavalla era tanto rilassata, si andava abbastanza forte, è venuto tutto a pennello. La gabbia sembrava che era la più sfoglia di tutte, invece è riuscita la cosa migliore. Gli ultimi 200 metri, quando la cavalla ho visto che la potevo tirare fuori, ho tirato fuori, ho tirato e poi lei ha messo il suo e io il mio. Paolo Serrantino è il proprietario, avete sempre creduto sulle potenzialità di questa cavalla, avete provato anche altri contesti fuori da Siracusa, oggi insomma ha dimostrato che quel motore ce l'ha. Beh sì, la cavalla ci abbiamo sempre creduto, per vari motivi ha fatto alti e bassi, però oggi ha dimostrato di essere quella che è. Francesco, Sirchia? Adesso blocchiamo l'allenatore perché prima mi è sfuggito, però secondo me insomma qualcosa dobbiamo chiedergliela. Sì, sì, a Sebastiano una cosa gliela devo chiedere, assolutamente, perché questa cavalla era arrivata da Roma con delle prestazioni abbastanza convincenti e subito ha fatto vedere all'inizio un po' di carattere, pian piano con il lavoro ho visto che è un po' la hai plasmata, l'ho vista un po' più calma, secondo te dopo questa corsa che margini ha questa cavalla? Guarda, è una cavalla che quando è tornata da Roma è tornata con dei problemi veramente serie, poi piano piano la cavalla sta incominciando a venire avanti, però è una cavalla che ha poco fisico, una cavalla un po' nervosa, una cavalla un po' particolare, ci hai capito? Magino di miglioramento, lei il motore ce l'ha perché da piccola il proprietario Michele ci sperava tanto su questa cavalla, poi ha avuto un piccolo infortunio a Milano, quindi la cavalla è stata distrutta totale. Poi piano piano ora stiamo vedendo un po' di luce, però... Forse col passaggio d'età però si ritrova a essere un po' più fresca dei suoi coetanei, può essere un vantaggio? Vediamo bene, ora vediamo, lo deve dire sempre lei perché c'è una cavalla che ha poco fisico, vediamo quello che succede più. Intanto abbiamo messo un sassolino e poi vediamo per il futuro cosa ci propone, e tu sei un gran lavoratore e ti conosciamo bene. Vanno a sistemarsi, quindi gli otto finalisti di questa edizione del Trofeo Quarter Horse, il pezziato Francesco troverà i due maglie nere, ma chiaramente Totillas ormai abbiamo imparato a capire che è il pezziato, sono partiti. E si parte, ma Totillas non ha la maglia nera ma ha la maglia azzurra, e comunque va davanti al suo esterno E.W. Master Cash, poi si muove bene anche Baron con Carmelo Emmolo, ma Totillas è davanti a tutti, Totillas ha i cento finali, sembra padronare la situazione, all'interno lo scatto di E.W. Master Cash che alla fine sembra aver preso la meglio, E.W. Master Cash su Totillas, Totillas, quindi il terzo invece è Baron il giallo. Quindi confermiamo dal fotofinish che l'arrivo è, il numero uno è E.W. Master Cash, William Emmolo con i colori azzurro, quindi Totillas il pezziato con Manuel Emmolo, e il terzo è Baron con Carmelo Emmolo. Letoianni per l'attitudine al tracciato, Straripante per la condizione, e si parte con Rurik, che è la più veloce, e guadagna in poche battute lo steccato. Si presenta subito Woman on Malta, i due filati da Letoianni, con all'interno Mordene Grey, quindi Straripante, ancora a chiudere Early Target. I due Rurik e Uomo non Malta in Pariglia, davanti Mordene Grey e Letoianni a seguirli da vicino, poi ancora Camon Captain preso Shadow, Early Target a completare il drappello, con Straripante che va per vie interne, si fa ingresso, indirittura d'arrivo, i cavalli in un fazzoletto, con dall'interno Mordene Grey, Rurik, Letoianni che passa, con Woman on Malta ancora ben vivace, trova al binario giusto anche Straripante, in anticipo su numero 2 di Camon Captain, che invece sembra il più incisivo, Letoianni ha preso qualcosa di vantaggio a tutti, Letoianni e Giuseppe Cannarella per il triplo in giornata, Camon Captain preso Shadow e Straripante alle sue spalle. Ancora Giuseppe Cannarella, agli onori dell'altare, con Letoianni, il sette anni da Bangor in the Jungle per la Consiglio Galoppo, Barbara Consiglio al Training, va a segno in modo inequivocabile e si impone praticamente alla coalizione Cuschieri-Cannella che piazza Camon Captain al secondo posto e preso Shadow al terzo. E quindi probabilmente anche Woman on Malta a completare il marcatore, ma arriva indecifrabilmente appaiato insieme a Straripante. Sarà il giudice arrivo a dichiarare che è quarto. A noi interessa che a vincere è stato Letoianni, 4,37 la sua quota, 5,2,1, e l'arrivo della sesta e conclusiva corsa di questo convegno festivo di 2 giugno. Giuseppe, intanto ti facciamo i complimenti per la tripletta. Letoianni sicuramente aveva un peso che in questo contesto poteva fare la differenza perché stiamo parlando di un cavallo di grandi doti e nello schema e si è espresso sempre bene. Ti devo dire che c'è un gran feeling con questo cavallo. È la quarta vittoria che le faccio io nella sua carriera. Due anni da puletro e due adesso da anziano. Veramente un bel cavallo. Complimenti anche per la tripletta. Grazie. Bene, adesso diamo il giusto spazio e il giusto merito ai vincitori della finalissima, finale Quarter Horse, il gran trofeo Quarter Horse organizzato come sempre dall'Esse di Spettacoli Equestri che ha come referenti il signor Salvo Murgo detto Bordellino, a noi piace sempre ricordarlo, è l'istancabile moglie Maria Purità. Una famiglia emmolo che ha dominato il podio quest'anno perché a vincere William con E.V. Master Cash. Master Cash, ho capito cos'è la sigla, che cosa si riferisce. Emmolo William, Master Cash, mi ha svelato questa curiosità. Totias, la pezzata che arriva a seconda con Manuel Emmolo e poi al terzo posto invece Carmelo Emmolo che giunge con Baron. andiamo con le premiazioni però prima vorrei soffermarmi un attimo con la signora Maria ringraziarla per essere qui anche in questa occasione per aver portato degli esemplari veramente brillanti e scattanti e quindi è stata una bella edizione. Allora, come al solito ringrazio il dottore Mazzarella per aprire questa vetrina al cavallo Quarter Horse, il cavallo di quarto di miglio. È stata una giornata bellissima a rappresentare questo 2 giugno con ragazzi che meritano questa vittoria. I miei auguri vanno a William, primo posto meritato e già vincitore nell'edizione precedente. Emmolo, Carmelo e Emanuele. Li ringrazio ma quest'anno se avete notato nelle batterie per la prima volta in assoluto hanno partecipato due donne, Alessia D'Amato e Adelaide Orsini che sono state veramente brave, l'elogio perché sono arrivate alla finalistima. Quindi hanno dimostrato tanta grinta, tanta veramente determinazione. Speriamo che ci sia un conseguo in questo. Speriamo di aver divertito, aver trasmesso questa passione per il cavallo Quarter Horse e mi auguro alla prossima. Ci auguriamo alla prossima. Vedo nelle mani della signora Maria dei premi che poi consegneremo ovviamente dopo i trofrei i proposti offerti dall'amministrazione dell'Ippodromo del Mediterraneo perché c'è uno sponsor intanto lo ricordiamo perché è giusto ringraziarli. La Selleria Amenta ha voluto donare come primo posto un testerino in cuoio al primo classificato, una coppia di speroni sempre tipici per i cavalli americani per la monta western al secondo classificato e una capezza al terzo classificato grazie sempre al premio che ci porteremo nel cuore dell'Ippodromo perché il nostro desiderio è quello e la coppa è quella che gradiremo di più per questa vittoria. E allora alziamo questi trofei al cielo iniziamo con il terzo classificato consegna il soprano Maria Cara Primo che ci ha deliziati insomma con la sua interpretazione a cappella dell'inno di Mameli e quindi riceve Carmelo Emmolo giunto terzo con Baron Francesco Faraci invece premia il secondo classificato Manuel Emmolo con l'inconfondibile Totias si sistema sul secondo gradino del podio e poi invece Gaetano Mazzarella premia il vincitore William Emmolo che insomma si è aggiudicato questa edizione 2024 del Trofeo Quarter Horse con EV Master Cash grazie certo consegniamo adesso i premi della selleria del signor Angelo Amenta e allora Maria Purità terzo posto premia Salvo Murgo detto Bordellino consegna ancora Maria consegna gli speroni al secondo classificato quindi Manuel Emmolo il figlio di Carmelo Murgo e invece mi ricordo il nome il figlio il figlio di Murgo Miki Bordellino mi suggerisce Salvo premia William Emmolo in questa bellissima cavezza grazie per la visione grazie a tutti a Monday